Sono 3D e siamo qui, oggi faremo una conferenza in questa bellissima sede che è la Casa Cavazzini in centro Udine per dei temi a me molto interessanti, nel senso che il 3D è un metodo di lavoro, uno strumento che noi usiamo tutti i giorni, sempre di più, per presentare le nostre idee, per farle capire, per poter poi appunto spiegare i nostri progetti, i nostri concetti, perché alla fine i nostri progetti sono molto interessanti, ma se non vengono capiti dalle persone non serve a niente. Quindi questo 3D in diversi modi, a parte noi pictogrammi, partendo da forme, da studi, anche durante la fase progettuale, noi lavoriamo moltissimo in 3D per capire subito anche come ci si relaziona poi a questi spazi. Proprio per noi è molto interessante non creare solo un concetto che magari da una prospettiva funziona, ma da altri 10 no, quindi noi sviluppiamo tutti i progetti, quasi sempre, dall'inizio direttamente in 3D.